Anche oggi siamo qua a Dardac, guarda che qua hanno fatto un nuovo salto Figata Vedo la questa destra, un'altra parte. Oh Iniziano ad esserci castagne Ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Salto Era nuovo anche quello Vai Vai Non ho molta presa Mamma mia che nuova Bravo Guarda hanno messo i nuovi cartelli Variante Delta M8 Piero Alto Troi dell'Hype che sono tutti di qua Variante Delta M8 Piero Alto Troi dell'Hype Oh Da un botto che non passo per di qua Oh Qua abbiamo il Cocodrillo Ciao Ciao Che capriolo Occhio Che girata la piano Ciao 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 Ciao